Il settore di Leffermo, le gare pubbliche sono al palo, mentre diventa sempre più pressante la necessità di rivedere i compiti e le funzioni dell'Urega. E quanto chiede il lancio Ragusa, che reputa inaccettabile la lentezza con la quale operano le commissioni di gara. In provincia di Ragusa, dichiara il presidente del lancio, Sebastiano Caggia, sono fermi al palo da mesi appalti per oltre 6 milioni di euro, a causa principalmente della normativa regionale sugli Urega e gli uffici regionali per le gare d'appalto, che invece di semplificare e velocizzare le procedure di aggiudicazione crea un collo di bottiglie ed una barriera insuperabile. Secondo Lancia, le Urega devono poter essere messe nelle condizioni di ben operare e dare risposte immediata in momenti così difficili. La situazione di fermo, dice Caggia, è causata dalla vigente normativa che affida le commissioni di gara composte da professionisti esterni agli Urega non solo la valutazione delle offerte tecniche ma anche la verifica amministrativa di ammissibilità delle imprese partecipanti. La questione naturalmente non riguarda solo la provincia eblea ma è generalizzata tutta la Sicilia. Infatti giacciono nelle stanze dell'Urega e delle nuove province plichi e plichi di gara d'appalto che si rischia, che non tramuteranno mai in cantieri, opere e lavoro. Per Caggia basterebbe una piccolissima modifica che consentisse agli Urega di procedere con le verifiche amministrative e lasciasse alle commissioni il compito di valutazione tecnica delle offerte per sbloccare decine di milioni di appalti pubblici.